Erano attese e sono arrivate. I PM Anna Benigni e Luca Sciarretta hanno firmato inoltrato al GUP le richieste di rinvio a giudizio per il manager dell'ASL di Pescara Vincenzo Ciamponi e per la cooperativa La Rondine di Lanciano. Il giudice dell'udienza preliminare ora potrebbe decretare il non luogo a procedere ma con ogni probabilità la vicenda dell'appalto truccato da 11 milioni di euro finirà in tribunale. Secondo quanto ricostruito la cooperativa si sarebbe aggiudicata ai servizi extra ospedalieri corrompendo Ciamponi regalandogli un Rolex mai rinvenuto e almeno 8 mila euro. Tra il manager Domenico Mattucci allora presidente della Rondine ruolo di tramite lo avevano assunto Luigia Dolce coordinatrice della cooperativa e Sabatino Trotta direttore del dipartimento di salute mentale. Mentre Mattucci e Dolce hanno patteggiato e ricevuto la sospensione della pena due anni e la non menzione Trotta si suicidò in carcere a Vasto il giorno stesso del suo arresto il 7 aprile scorso decretando la fine del filone politico dell'inchiesta. In ballo infatti secondo la procura c'era altro al di là dei soldi. Trotta che alle scorse regionali si era candidato con Fratelli d'Italia risultando il primo dei non eletti mirava una scalata all'interno del partito della Meloni una scalata sponsorizzata proprio dalla cooperativa lancianese da circa 650 dipendenti e 10.000 assistiti che gli avrebbe assicurato un bacino elettorale. Come confessato dalla Dolce e confermato dalle intercettazioni Trotta e la coordinatrice si erano recati insieme a Roma per consegnare una busta a un funzionario ministeriale. La cui identità è rimasta ignota poiché mentre Trotta lo incontrava la Dolce passeggiava per le vie della capitale. In mano agli inquirenti quindi gli elementi di prova riguardano solo la turbativa d'asta. Ciamponi resta saldo alla guida dell'ASL pescarese e finora nessuno ne ha messo in dubbio il ruolo. L'azienda sanitaria dal canto suo su questa vicenda si è espressa solo in due circostanze. La prima il 23 aprile quando fu rivendicata la legittimità dell'appalto. Il provvedimento di aggiudicazione e l'accessivo contratto, si leggeva in un comunicato stampa, sono stati sottoscritti a seguito di approfondita e rigorosa istruttoria ad opera dei competenti uffici amministrativi dell'ASL con la consulenza di un legale esterno esperto della materia. La seconda, quella del 27 aprile, quando con un secondo comunicato diramato quattro giorni dopo il primo, l'ASL ha annullato l'appalto per gravi illeciti professionali poiché la gara, si legge nel testo firmato da Ciamponi, fin dall'inizio perseguiva interessi privati e non pubblici. Nel frattempo la rondine, per cui insieme a Ciamponi è stato richiesto il rinvio a giudizio, all'arresto di Mattuccia è eletto un nuovo presidente, smarcandosi dalla precedente gestione. Archiviate invece le posizioni di Antonio Dincecco e Anna Rita Simoni, componenti della commissione di gara, è probabile che i PM li ritengano più utili come tester nel processo ormai alle porte.